Appena finita la sfida con Parella Torino, una bella vittoria 3-0 con Giorgia Arcuri Palleggio. Un commento sulla partita di questa sera? Allora, sì, è andato molto bene, abbiamo lavorato molto bene già in settimana e in realtà la Ricci è andata in modo ottimale per me, quindi mi ha permesso di fare il gioco che volevo con tutte le mie attaccanti, dai centrali alle bande, all'opposto, anche seconda linea, l'abbiamo ricevuto molto bene e quindi ci ha permesso di vincere con questi punteggi qua, quindi è andata molto bene.